ha preso servizio da una settimana la nuova comandante della polizia locale di clusone Ilaria Tomasoni oggi siamo stati presso la loro sede per la presentazione clima ed energia sono temi molto caldi in questo fine settembre a bergamo a pro dalla campagna ultima generazione e all'over ieri è andato in scena il convegno energia quale futuro a cura dell'analista Gian Claudio Torlizzi il mondo della fantasia torna protagonista alle terme di buario con la seconda edizione di bt comics la manifestazione dedicata al fumetto all'animazione ai videogiochi e ai manga la seconda edizione organizzata dalle terme di buario dal gruppo zani e dell'associazione promo azioni 360 punta a superare gli oltre 15 mila visitatori del 2021 telespettatori di antenna 2 tv buonasera e ben ritrovati con la nuova edizione del nostro telegiornale come ogni sera in primo piano la cronaca ci spostiamo subito in valle camonica dove una donna di 67 anni è morta questa mattina poco dopo le 12 in seguito a una caduta in via zocca 1 a sellero sul posto sono subito intervenuti un'ambulanza e lì soccorso di sondrio ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare sono stati attimi concitati invece questa mattina in una farmacia di albino sembra che un uomo sia entrato in evidente stato di agitazione e abbia chiesto delle siringhe al diniego da parte della farmacista l'uomo ha dato in escandescente sembra che le persone all'interno della farmacia abbiano tentato di calmarlo invitandolo ad uscire ma dimenandosi l'uomo ha involontariamente colpito alcuni clienti sono stati quindi chiamati soccorsi è arrivata un'ambulanza della croce verde di colzate ma nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale l'uomo si è allontanato i carabinieri della compagnia di clusone sono intervenuti sul posto e stanno tentando di rintracciarlo andiamo ora a clusone perché ha preso servizio da una settimana la nuova comandante della polizia locale di clusone Ilaria Tomasoni oggi siamo stati nella loro sede per la presentazione vediamo il servizio Ilaria Tomasoni da abbrato con frazione di Castione della Presolana e il nuovo comandante della polizia locale di clusone è stata una prima settimana di insediamento qui nella cittadina Baradella come sta andando? Sì esatto è iniziato giovedì scorso e appunto in questa in questa prima settimana ma in generale in questo primo periodo devo un po' prendere visione della struttura del corpo e delle modalità operative del comando e quindi sarà un periodo di visione prima di andare poi a prendere delle decisioni di vedere un po' di dare la mia linea diciamo per il servizio operativo esterno e per i servizi interni. Tutto sommato con i numeri non siamo messi malissimo rispetto ad altre zone comunque della Bergamasca allora il corpo è composto da 5 agenti di polizia locale anche con esperienza parecchia esperienza di servizio e poi abbiamo un messo comunale ausiliario della sosta quindi diciamo che un buon numero e soprattutto con con esperienza con esperienza e con un'ottima conoscenza del territorio perché parecchi sono sono anche vent'anni più di vent'anni che sono operativi sulla cittadina di clusone. Daniele è stato un 2022 abbastanza impegnativo la chiamata del sindaco che ti ha dato questo incarico protempore come sono andati questi mesi e adesso insomma il corpo a tutti gli effetti è completo raccontaci un po'. Devo dire che quando il sindaco mi ha chiesto di diventare responsabile per me è stata una bellissima notizia perché lavoro qua da 26 anni e non dico che è un sogno nel cassetto fare il comandante però è stata davvero una bella esperienza conosco tutto di clusone dopo 26 anni e devo dire che amo clusone veramente quindi è stato veramente un onore per me. È stato anche immagino difficile organizzarsi com'è la vita all'interno del comando? Difficile organizzarsi no perché comunque le meccaniche di un ufficio dopo 26 anni le conosci benissimo diciamo che abbiamo avuto momenti in cui eravamo in pochi e quindi ho dovuto chiedere ai miei colleghi del lavoro in più per coprire i turni ma ho ricevuto una grande collaborazione dei miei colleghi che poi sono anche amici perché lavoriamo insieme da anni e quindi è andato tutto per il meglio allora per quanto mi riguarda spero che anche l'amministrazione sia stata felice di quello che abbiamo fatto e adesso parte una nuova era. Però c'è un team giovane? C'è un team giovane non lo so se parti da me non di sicuro però abbiamo avuto delle recenti assunzioni con dei ragazzi giovani abbiamo anche il nostro messo comunale che è molto giovane quindi si fonde bene l'esperienza di alcuni con la voglia di lavorare di altri Le interviste complete per la presentazione proprio del comando di polizia locale di Clusone andranno in onda venerdì sera nell'appuntamento con Target in onda come sempre sulla nostra emittente alle ore 19 ed ora apriamo due servizi vi parleremo appunto di due servizi legati ad energia e clima infatti ieri sera a Lovere c'è stato un importante dibattito sul futuro dell'energia il relatore è stato un relatore di eccezione sto parlando dell'analista Gian Claudio Torlizzi è stata una serata importante quella di stasera qui a Lovere il tema del dibattito era energia quale futuro lo chiediamo a lei che insomma è un'analista molto importante fondatore anche di IT Community come possiamo rispondere anche ai nostri telespettatori che tante volte magari affrontando questo autunno e inverno si fanno queste domande? L'aspetto importante da evidenziare è che con l'aggressione russa in Ucraina il mondo è cambiato siamo entrati fondamentalmente in una nuova guerra fredda irreversibile da cui molto difficilmente si tornerà indietro e quindi tutti i paradigmi a cui eravamo abituati negli ultimi decenni sono cambiati tra questi paradigmi ovviamente rientra il fare a meno nel lungo termine del gas russo non sarà ovviamente un obiettivo perseguibile in poco tempo ma è un obiettivo che comunque ci siamo ormai posti e che ovviamente richiederà un dispengio economico molto più forte rispetto al passato ma anche fare a meno dei microcipp asiatici quindi ci sono dei paradigmi che sono completamente fondamentalmente conclusi quindi è importante che le istituzioni europee stiano vicino sia alle famiglie sia alle imprese perché c'è un assoluto bisogno di un sostegno per aiutare questo traghettamento questa transizione verso un mondo che ormai è tornato ad essere diviso in due grandi blocchi è una parola che fa male però si intravede anche il razionamento per le famiglie non solo per le aziende sì purtroppo è una ipotesi assolutamente da tenere in considerazione perché anche se gli stocchi di gas sono abbastanza alti abbiamo comunque un problema di flussi dalla Russia che rischia di peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi e quindi è importante che le famiglie entrino un po' nella mentalità di iniziare a consumare e a consumare meno ovviamente non è preferibile un'azione dall'alto perché non appartiene a dei regimi e a delle culture che a noi non appartengono che non appartengono alla nostra cultura ma perlomeno che ci sia da parte delle famiglie un'azione di razionalizzazione dei consumi questo assolutamente sì Il nostro governo può fare qualcosa oppure la palla passa più in grande alla nostra Unione Europea? Il governo è il prossimo governo dato che quello che ormai si accinge a concludere il mandato ha fatto una scelta di non lottare in maniera troppo forte con l'Europa questo è un dossier che deve comunque essere risolto in ambito europeo quindi l'auspicio è che il prossimo governo che uscirà dalle urne abbia la forza e la determinazione sufficiente a intavolare con l'Europa un negoziato che sarà ovviamente duro per dotare il Paese di quello spazio in bilancio che è necessario per ristorare famiglie e imprese da questa crisi così forte del fronte energetico Anche nella nostra provincia potrebbero scattare azioni di sobbiedienza civile non violenta per portare l'attenzione sull'emergenza climatica ed ecologica a Bergamo approda infatti la campagna Ultima Generazione Vediamo il servizio di Nicola Andreoletti Domani giovedì 22 settembre a Bergamo un appuntamento dedicato all'emergenza climatica ed ecologica che stiamo vivendo è organizzato da Ultima Generazione partirei proprio da qui spieghiamo che cos'è e che cosa fa Ultima Generazione Allora Ultima Generazione è una campagna di disobbedienza civile non violenta che ha come scopo il portare attraverso azioni con un impatto forte portare la conversazione nazionale sul tema della crisi climatica giorno dopo giorno affinché si crea una reale pressione per i governi per prendere le misure necessarie al momento per assicurarci che avremo un futuro e che i bambini di domani avranno un futuro degno di questo nome e facciamo azioni di vario tipo quella a Cardine è il blocco delle tangenziali quindi siamo stati visti sul Gra a Roma ma anche le azioni nei musei sono quelle persone che sono attaccate alla primavera di Botticelli e anche azioni come le sciopere della fame che ci sono in questo momento a Milano per cui abbiamo tre persone che sono facendo lo sciopero della fame ad oltranza che significa che o otterranno le richieste che abbiamo oppure sono pronti ad andare fino all'ospedalizzazione affinché i segretari dei partiti principali italiani concedano un incontro pubblico per parlare appunto della crisi climatica e prendono l'impegno entro un mese dalla propria investitura chiunque venga eletto a far passare un decreto legge che impedisca la riapertura delle centrali a carbone dismesse Quindi questi temi, queste azioni le volete portare anche a Bergamo domani alle 18.30 al Parco della Fara a Viale delle Mura una presentazione di cosa parlerete in particolare? Assolutamente, sì grazie per lo spazio spero che più persone verranno parleremo quindi soprattutto il tema sarà dire la verità e capire cosa significa essere presente in questo momento storico essere vivi, essere coscienti di quello che possiamo fare quindi un quadro sulla crisi climatica sicuramente ma soprattutto sulle menzogne che abbiamo ricevuto in questi anni come per esempio quello della mancanza di gas in questo periodo che porta poi il governo ad autorizzare delle misure che altrimenti viste le condizioni climatiche estreme in cui viviamo e l'emergenza climatica non sarebbero autorizzate e parleremo di questo e anche della storia del senso morale della disobbedienza civile e poi ci sarà uno spazio appunto per ognuna per esprimersi su quello che risente e come vuole agire e come ogni settimana andiamo a vedere quello che è l'andamento settimanale dei contagi da covid-19 il report di ATS Bergamo In provincia di Bergamo nella settimana dal 14 al 20 settembre c'è stato un lieve incremento del tasso di incidenza che è pari a 208 nuovi casi covid per 100.000 abitanti contro i 172 della precedente settimana ci sono stati 400 nuovi casi in più negli ultimi sette giorni un incremento del 20,6% la media giornaliera dei casi incidenti è salita da 277 a 334 l'indice di replicazione diagnostica redditi è leggermente aumentato ed è pari a 1,22 i comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 37 la precedente settimana erano 40 l'età media dei contagiati è pari a 45 anni per quanto riguarda i ricoveri si registra una stabilità di quelli ordinari e una lieve decrescita di quelli in terapia intensiva lo avete sentito anche dai nostri titoli il mondo della fantasia torna protagonista alle terme di Boario con la seconda edizione di BT Comics la manifestazione dedicata al fumetto, all'animazione, ai videogiochi e ai manga la seconda edizione è organizzata dalle terme di Boario dal gruppo Zani e dall'associazione Promoazioni 360 e si punta a superare gli oltre 15.000 visitatori del 2021 il parco delle terme di Boario torna ad animarsi con la fantasia, con i fumetti grazie alla seconda edizione di BT Comics che cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo fine settimana? la prima cosa in assoluto è che non ci saranno le restrizioni come la prima edizione che si poteva entrare in questo parco solo e scusamente col Green Pass per cui ingresso libero per tutti da sabato alle ore 10 fino la sera alle ore 19.30-20 domenica invece sarà aperto dalle 8 alle 19.00 è una cosa importante che ci tengo a dire che oltre all'ingresso libero ovviamente che la manifestazione verrà fatta anche in caso di pioggia anche se siamo in un parco sono tutti al coperto sia gli espositori sia i workshop e ovviamente tutti gli spettacoli cosa devo dire? L'anno scorso erano 15.000 tra il sabato e la domenica quest'anno sicuramente di più perché le associazioni sono diventate molto più numerose ma in particolar modo tante tante cose tante tante fiabe nostre, tanti eroi nostri ma in particolar modo anche gruppi che rappresentano un po' gli eroi dei nostri bambini di adesso per cui è un parco che si trasforma in una grande fiaba in tanto divertimento e perché no tanti sogni ci saranno anche tanti espositori moltissimi espositori, molti più dell'anno scorso invito tutti a venire perché non voglio svelare troppi segreti degli espositori però effettivamente posso dirvi, allencarvi qualcosa avremo la Baccaric con i cibi americani avremo le Bible, il Mocky Pocky avremo delle cose particolarissime a parte poi i fumettisti, i libri, gli articoli comics, i costumi avremo anche due stand di costumi, le spade catane insomma tutto quello che crea curiosità ci sarà invito tutti a venire anche un corso di scrittura creativa? anche un corso di scrittura creativa fantasy si potrà fare quindi saranno due giornate molto molto interessanti il Parco delle Terme diventa quindi ancora un luogo che ospita una manifestazione in grado di attirare gente sul territorio di Darfobuario Terme certamente il Parco delle Terme oltre ad essere il parco per la salute per la cure delle acque termali deve diventare sempre di più una piazza diffusa dove la cittadinanza entra partecipa e dove anche il turista viene accolto diciamo in questo luogo con eventi, manifestazioni di vario interesse stiamo chiudendo diciamo il palinsesso di quest'anno che è stato abbastanza soddisfacente, ricco poi soprattutto dopo il Covid è sicuramente stato un momento di soddisfazione rivedere gente che ritorna a partecipare ad eventi in presenza in particolare voglio sottolineare quello come questo quello del Comics Boario Terme Comics Festival perché sono eventi che reiterano diciamo negli anni e con un argomento ben specifico quando questi eventi riescono a sopravvivere a dare interesse anno dopo anno diventano caratterizzanti della città diventano immagini turistiche di accoglienza della città e questo soprattutto che ha una magia delle favole o delle fiabe oltre ad avere un interesse specifico dei personaggi che piacciono quindi gli addetti ai lavori è sicuramente una vetrina di piacevole interesse anche del visitatore piccino e grande che entra in un castello incantato e vivere un'esperienza in un parco quindi come quello del Parco delle Terme che è la location più adatta per questo tipo di manifestazioni e anche per questo evento a fianco delle Terme c'è il gruppo Zani sì anche quest'anno per il BT Comics come gruppo Zani abbiamo collaborato con le Terme di Boario e con gli altri organizzatori per la realizzazione di questo evento che l'anno scorso ha avuto molto successo pur essendo in tempo di pandemia e quindi abbiamo voluto rifarlo ed ora apriamo la pagina sportiva perché la Mountain Bike Parre organizza per sabato 24, domenica 25 la quinta prova di Coppa Italia Giovanile XCO partenza questa volta dal Parco Comunale di Rovetta noi abbiamo sentito il Presidente Severo Ruggeri Severo Ruggeri, Presidente del Mountain Bike Parre siamo qui quest'oggi per promuovere un appuntamento importante per le due ruote domenica 25 settembre la quinta prova di Coppa Italia Giovanile XCO e si terrà a Rovetta vuoi raccontarci qualcosa di più? quali sono i giovani e le categorie che sono interessate per questa importante prova? le categorie sono dagli esordienti 1, 2 allievi 1, 2 e i junior sia maschile sia femminile comunque fa parte perché tutti i comitati devono portare la squadra abbiamo i comitati della Sicilia, Umbria, Marche, Piemonte, Val d'Aosta adesso non me lo ricordo più bene comunque abbiamo i concorrenti fino dalla Sicilia comitato regionale siciliano e quindi insomma è davvero una gara che come ogni anno richiama l'attenzione da parte di tutta Italia quest'anno un percorso rinnovato siete a Rovetta allora quest'anno ci siamo trasferiti a Rovetta a un percorso nuovo che hanno studiato i miei collaboratori a un circuito di 3 km e 600 metri da ripetere a base delle categorie il punto di riferimento e il punto di ritrovo è il parco comunale il punto di riferimento è il parco comunale di Rovetta che ce l'hanno messo a disposizione tutto e anche le cucine che il sabato a mezzogiorno faremo anche da mangiare e anche la domenica sì perché effettivamente sì è domenica l'appuntamento speciale ma poi radunando tutti questi atleti che arrivano da tutta Italia l'appuntamento è su tutto il weekend è tutto il weekend, sia il sabato o la domenica perché i comitati regionali fuori d'Italia arriveranno il sabato pomeriggio perché la mattina non fanno in tempo come sta la mountain bike par? sta benissimo, sta bene la mountain bike par quanti sono gli atleti quest'anno iscritti? c'è sempre tanto entusiasmo dietro questa realtà? allora in totale dai ragazzini dai 7 ai 12 anni sono circa una ventina perché abbiamo tagliato un po' perché non riuscivamo più un po' a gestire poi ci sono gli allievi esordenti uno, una ventina, 25 e poi ci sono i master ce ne sono una trentina anche di quelli saremo circa da uno all'altro e l'altro circa 100 persone nel frattempo Severo Ruggeri e tutta la mountain bike par si coccola anche un po' il risultato a livello mondiale di Nicola Smilesi cresciuto proprio in questa squadra che è arrivato tredicesimo al mondiale su strada credo che anche queste siano grandi soddisfazioni che nascono qui, da queste gare, sul nostro territorio sì, Nicola Smilesi è nato con noi mi ricordo là al campetto in Costa Erta aveva 7 anni quando ha iniziato adesso vediamo che punto che è arrivato quindi gli faccio veramente i complimenti di cuore perché come ragazzo è bravissimo, educato è forte, è forte, speriamo è forte così come la squadra che è pronta a scendere in pista a tutti gli effetti per il prossimo weekend per gli appassionati che vogliono venire a seguirvi qual è l'orario migliore e magari la postazione migliore? allora la prima partenza è alle 9.30 e l'ultima partenza alle 13.30 e quindi insomma appuntamento rovetta sì, c'è tutto il giorno da divertirsi voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Rovetta specialmente nel nome di Daniele Catania che mi ha dato veramente una mano qualsiasi orario che lo chiamo è disponibile lo ringrazio veramente di cuore da parte di tutto il Mutambai e ringrazio i miei collaboratori grazie mille e ora vado a leggervi i programmi della nostra emittente alle 20.10 appuntamento con l'Alpino alle 20.30 il film sub tutela dei il giudice Beato nel 32esimo anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino alle 21.45 Hard Track alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 Antenna 2 Sport e alla mezzanotte e 30 la terza edizione del nostro telegiornale ed ora vediamo insieme l'Almanaco perché domani sarà giovedì 22 settembre il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.23 il culmine alle 13.13 la durata del giorno di 12 ore e 21 minuti la luna sorge alle 2.54 e tramonta alle 18.22 la luna è calante la chiesa ricorda San Maurizio ed è davvero tutto anche per questa serata per il nostro notiziario di Antenna 2 TV io vi ricordo che potete rimanere in contatto con la nostra redazione mandando una mail a redazione chioccia antena2.it e potete rimanere in sintonizzati con tutte quelle che sono le nostre notizie le notizie delle nostre valli andando sul sito myvalley.it e vi ricordo che al termine di questa edizione potrete assistere a quelle che sono le previsioni del tempo e è davvero tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata a presto Grazie a tutti.